Il primo tempo ero soddisfatto dei ragazzi perché hanno fatto, secondo me, una buona partita. C'erano giocatori che era la prima parola che facevano, ma sono molto soddisfatto. Il secondo tempo invece non è stato buono perché abbiamo dato coraggio a loro, mentre il primo tempo gli avevamo tolto le loro certezze, giocando una partita attenta, aggressiva, buona tecnicamente. Il secondo tempo abbiamo fatto l'esatto contrario. È una squadra che ha fatto tre turni di Coppa, che ha eliminato il Basilea, quindi abbiamo dato coraggio alla squadra ospite, ci ha creato dei problemi e il rammarico, insomma, il primo tempo dovevamo chiudere almeno col doppio vantaggio. Ha avuto paura durante la partita? Il secondo tempo sì, perché l'Apollon è cresciuto e ci ha creato problemi. Come è volta la presenza della squadra di Apollon nella seconda parte del secondo tempo? Hanno fatto un ottimo secondo tempo perché è una squadra che piace giocare, non hanno buttato un pallone, hanno avuto una chiara linea di gioco.